Musica Abbiamo lasciato la città di Mindat, nello stato del Qin, e ci portiamo verso la città di Pagan. E appena arrivati a Pagan, andiamo subito a visitare la pagoda di Nampaya. Musica Questo invece è il tempio dedicato a Manua. Solo che il tempio, quella parte l'esterno, dove ci sono le guglie, quello invece è stato l'estavante. A causa di terramoto è il tempio un po' incrolato. Musica Quest'anno visiteremo le tante pagode a bordo di un calesse. Uno di voi puoi stare anche davanti, vicino al guidatore, puoi andare davanti. Ok, questo è il nostro? Questo è il nostro? Sì 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 Quindi ci vediamo. Ah tu non vieni allora? Mi vengo, vedi. Sì 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 Alla prossima Facciamo una piccola sosta perché da questo punto si vede uno splendido panorama Facciamo una piccola sosta. 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 E alla sera spettacolo folcloristico con una cena al ristorante Amata Boutique House. Facciamo una piccola sosta. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.